Daqui a un po', mazi in Gazzetto, episodio secondo. O chi nasce da robò e vieni a salire a Ginetto. Oi Ginetto, ti canti di lungo? Giorni e notti, cantiva anche il motivo di questo cartunchi. Oh, a ti nome di, che te pago... Ma fermi te! O cosa penso, Fabrizio? Che figlio di merda, lei si ha detto in giro. Scusate, che da chi ha un po' la rire. Ti amo i tettini! Ma mi vergogno! Ti amo i tettini, sacramento! Cianti la destantezza, signore. Ci tosso, sei rei oggi e arve ma... Sì che volanti! Stani lì che comincia, stani lì. Di me in po', ma ti che lei è sembra gatta con quella maccia negra in sciomuro che ti legavi in soffitta? Oh, no, è un colo cia sulla macchia con l'utrugio di mina! Da qui a in po', da un'idea dei Bishonen, realizzata dalla Bernarda Production, mazi in Gazzetto, episodio secondo, che si intitola I Piani di Renzo. Grazie a tutti!